Nel 2016 e nei primi quattro mesi del 2017 si è registrato un calo della delittuosità in provincia di Pescara. Quasi l'80% dei reati e delle denunce riguardano la zona costiera, lo ha detto questa mattina presso il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pescara, il colonnello Marco Riscaldati, illustrando i dati riguardanti il controllo dell'intera provincia da parte dei suoi uomini. I dati ufficiali ci dicono che c'è un trend di delittuosità in calo nel primo quadrimestre rispetto al medesimo del 2016, ma anche del 2016 rispetto agli anni precedenti. Questo però, attenzione, lo vorrei sottolineare, non significa che l'attenzione sul territorio scemi, anche perché siamo consapevoli che c'è un numero di delitti che a volte non viene denunciato e quindi questo porta a un marginale aumento di fatto della delittuosità sul territorio. Purtuttavia, siccome la nostra azione si orienta sui dati che sono a nostra conoscenza, devo dire che in questo senso la lettura è positiva. Il territorio della provincia di Pescara, ma ritengo anche dell'Abruzzo, si caratterizza proprio da questa diversità profonda tra i centri che sono sulla costa e i centri che sono nell'entroterra. La delittuosità costiera rappresenta all'incirca l'80% di quella totale dell'intera provincia e ritengo che questo sia un fatto che possa essere assimilabile anche alle altre province dell'Abruzzo. Per questo motivo l'attenzione è massima in questi comprensori, per cui attraverso anche la guida del Comitato per la sicurezza pubblica e con il partnership dei comuni interessati stiamo avviando e stiamo studiando un progetto ampio e speriamo il più efficace possibile di videosorveglianza. Il colonnello Riscaldati ha anche annunciato poi che la festa dell'arma si terrà il 5 giugno a Campobasso.